Si rinnova il rapporto di collaborazione tra le concessionarie Ecoliri e Auto Europa e l'organizzazione di uno degli eventi culturali più prestigiosi in agenda sul territorio della provincia di Frosinona, il Festival delle Storie. La resegna in programma dal 23 al 29 agosto prossimi utilizzerà 5 auto che, elettriche di ultima generazione, serviranno per trasportare gli ospiti che hanno accettato di aderire all'invito di Vittorio Maciocia. Sono diversi anni che supportiamo il Festival delle Storie, che è un evento culturale che ci interessa molto. Abbiamo messo a disposizione 5 vetture, una Jeep Compass, una 500 elettrica e per quanto riguarda Skoda una Enyaq e Volkswagen i D3 e i D4. Naturalmente vetture elettriche, quindi ecologiche, impatto zero. Per innovare questa collaborazione con questa resegna culturale, quali sono le regioni? Perché cerchiamo sempre di promuovere il nostro territorio e tutto ciò che è cultura. Intende perseguire una regione ecologica questo sinergico rapporto di attenzione da parte di Ecoliri e di Auto Europa nei confronti di alcune delle peculiarità e sensibilità culturali espresse dal territorio sciociaro. Queste vetture sono appena uscite totalmente elettriche, quindi nel rispetto dell'ambiente, con la possibilità di far vedere e far provare l'ultima tecnologia disponibile. Innanzitutto emissioni zero, quindi macchine costruite e progettate per essere ad impatto zero sul territorio. Questo non solo banalmente nell'inquinamento, ma anche nella costruzione materiali di ultima generazione che nel futuro smaltimento impatteranno zero sull'ambiente, quindi anche questo è importante. Il gruppo Ecoliri è stato tra i primi a credere 12 anni fa nella bontà dell'iniziativa culturale fortemente voluta dal giornalista Vittorio Macioce. Ecoliri e Davide Papa hanno creduto al festival il primo anno, quando veramente non ci credeva nessuno. Io ho sempre ringraziato chi ha creduto in un festival quando sembrava quasi una cosa assurda. Cioè, 12 anni fa raccontare, voglio fare una sorta di circo culturale che va di paese in paese, di piazza in piazza, che si chiama Festival delle Storie e tutti mi chiedevano ma che si fa al Festival delle Storie? Perché non era così scontato. Parli di comunità, poi se c'è l'apporto di un privato meglio ancora. Dove c'è un rapporto saggio, intelligente tra privato e pubblico, le comunità crescono. Deve essere proprio un rapporto intelligente.